Sì infatti Non ce l'ha più la zicca attaccata Eh beh magari col Celeste Sta giocando Sto facendo il video Guardami Fai pure qualche foto insieme magari Così si vede che pure lui sta con Va d'accordo insomma Quanto è bella Lei è bellissima Perciò ho detto Secondo me insieme No normale Ma vuoi fare con il mio? Secondo me Chiara Adesso riesci anche a prendere Qualche espressione migliore di lui Perché non c'è neanche il sole Poi Mia lo sta aiutando Chi è? Chi è? Mia? È Totò Hai visto? Vai a giocare vai Vai a giocare vai Ciao Questo si avvicina di più rispetto Perché c'è anche lei Che la vede tranquilla Capito? Si avvicina Mia vai a chiamarlo vai Chiama a Totò Chiama a Totò Secondo me sta pensando Questa è una pazza Questa mia marina Eccolo Totò Totò Biscottini L'altra volta Li mangiava Magari Giusto Per la foto Mi usa I biscottini Guarda È poco più alto di mia Alla fine Guardate che cosa No è parecchio Parecchio no Però è più alto Sì Attenta Eh si è spaventata Sì Scema lotta È delicato Molto Guarda Eh attenta Non falli di carico Eh No Leva Se si avvicina Leva di mezzo i biscotti A lei Non le mangia Non le mangia Cioè Poi sei pazza Ma quanti le mangia Guarda quelle orecchie Usa Dammi qua Così vediamo Per fare le foto Guarda Che bello Lui guarda Segnerebbe Volerli un pochetto Io Certo